Riavvio il video, riavviato il video, riavviato... Tranquillo, bella i cani, ok, abbiamo anche un po' di tempo La cassa, la cassa, la cassa era laggiù in fondo Approfitto dei cani per andarmi a fare cassa Approfitto dei cani e vado a farmi cassa Comunque mi stai battendo a punti e anche a kill Però non ha colpi la testa E muori Che punto di merda che è questo Ok, le Claymore hanno fatto il loro... Il loro... Guarda che sono utilissime Ora tocca a me È assurdo, ma quelle Claymore sono utilissime, porco cane Sì, ci stanno, ci stanno Mamma mia, sto malissimo Niente, G11 Niente, la cassa non me la vuole dare la Bunda Probabilmente te la darà a te Perché per me proprio non ha niente da dare Aspetta, allora che faccio il giro, va Ok, eh... Io sono qua dentro la casettina Io sono qua dentro la casettina Per cui, vedete cosa devi fare Prendi le munizioni, prendi le munizioni Dov'è la cassa? Ah, laggiù Eh, facci il prossimo round, prossimo round, prossimo round Sì, aspetta il prossimo round Perché qui, davvero, adesso viene fuori i fini mondo Io provo a rimettermi nella mia posizione Vediamo se riesco a tenerli Se non riesco a tenerli scappo come una faina Io mi sa che questa posizione qua Eh, infatti, stanno già uscendo E arriva al mondo? Tieni duro, eh Double points Sono dimenticato di mettere apposta qua Cosa? Tranquillo, per gli animali del file Ci pensi dopo? No, 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 qua Le barriere alle porte Ah, ok Aia, aia Aia, porco cane quanti Porco cane quanti Porco cane Sai cosa, su cosa mi sono incastrato? Credo di averlo capito Ah, dimmi Credo di essermi incastrato su un copertone Come un copertone? Eh, qua c'è una ruota C'è un copertone C'è una gomma, in pratica Madonna mia Fio, ho fatto esplodere una Claymore Con sopra un gruppo di zombie Me li ha uccisi quasi tutti Ok, ne ho zoppato uno Sono potentissime queste Claymore Porco Giuda Mi sono infilato in due centimetri Eh, non so come ho fatto Ma mi sono infilato Oh, che bella cosa Beh A zoppane uno Sì, ma a zoppane uno Eh, se ne rimangono Ok, sì Ne stanno spawnando ancora Aia, però Oh, andate con calma Oh Ok, fatto Però corre Corrono entrambi La cassa dov'è? Dove c'è la laguna con le isolette Eh, ma dove? A sinistra della mappa Sotto a sinistra Dove? Laggiù in fondo Ah, è vero Destra Giù in fondo Doctor's Quartiers E meno male Ah, mi brucia l'occhio Sono quasi le tre Mie complimenti Mi stai battendo per due kill È vero, hai visto? E con molti colpi alla testa La spettra Oh, tu con la spettra È un business, eh Proprio un investimento sicuro Con la spettra È inutile questa volta G11 Tanto ho soldi da spendere Sì, in questo caso sì In questo caso posso dirti anche io di spendere Eh, vabbè però, eh Oh, ma Non ti dico tanto Ma almeno un'arma decente Tirala fuori Comunque c'è qua lo zoppo Tienilo, tienilo Che cos'hai? L'L96 Dai, carino Eh, ti sta seguendo Ma che cazzo vuoi da me? Niente Andiamocene Andiamo all'altra costruzione Nella prossima Io mi sa che vado a farmi una cassa No, ma non sprechiamo tutti i soldi, eh Eh, io voglio qualcosa Voglio qualcosa di buono Perché ho un cecchino Rimandiamo con 9000 punti Cerchiamo di rimanere con 9000 punti Aspetta che spara un urcello Mancatissimo Comunque qua sopra la cassa Dov'è? Lì sopra Apri, apri Vediamo qua Nel cazzo sei? Balistico, ovvio Da qua Apri qui Apri qui No, da sotto, da sotto Da sotto, è già aperto Da sotto Qui Scendi giù dalle scale Qui sopra Dai, faccio l'ultimo giro E poi me ne vado Eh, sì Vabbè, ho già capito che Ci ha dato il contentino Ci sono i copertoni qua Oh, vieni su È qua la cassa Con chi? Oh, al contentino ce l'ha dato Sappi che adesso non esce più niente Arriva a massimo il 9000 punti, eh Non andare al di sotto Ok Eh, vabbè Minchia Ma cos'è? Un scherzo? Ma cos'è? Eh, Sasha Ok Ma cos'è? Niente Sasha, niente, niente, niente No, Sasha Non poi Non Oh, l'ultimo giro Poi andiamocene Eh sì, e vai Eh che cavolo Beh, dopo 10 giri di cassa Finalmente qualcosa di decente Ti è uscito Esatto Dammi le claymore che l'equipaggio Dai, dammi le claymore Comunque Per ora, eh Per ora Cavolo, 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 cavolo Ok Vediamo di fare le cose fatte bene A che era un po' di qua Un po' di no Beh, guarda In realtà Quanto mi avevo preventivato L'abbiamo già superato Perché avevo preventivato 15 Adesso è tutto di guadagnato Arriviamo al ventesimo, vai Eh, dipende Perché io qua c'ho l'Ira di Dio Madonna De Dio Quanti Sancia Non so cosa stia facendo Ma sto finendo nella tua zona Non so perché Un brutto notizio Non so perché Eh, sono all'entrata della tua zona Non so perché Vieni dentro la casetta Vieni dentro la casetta Vieni, vieni, vieni Fidati, vieni Vieni, fidati Fidati di me Fidati Mi devo proprio fidare Vieni dentro Fidati, vieni Mi stanno uccidendo Fidati, corri da me Sto arrivando Merda, mi sono incastrato Vuoi attivare la trappola? Sì, muoviti Muoviti Ho mancato la porta Se devi attivare Attiva adesso Fatto Hola Porco demonio però Ma non ne avevi tanti È perché Li ho già uccisi tutti Con il Galil Proviamo a restare Io e te qua dentro Dai, proviamo Madonna l'HK21 L'HK21 è una bestia Della natura Simo, vieni No, facciamo così Io sto all'entrata Tu stai lì dentro Quando ne hanno Ne ho veramente tanti Arrivo Ok Io metto una Claymore Qui Oh, siamo a 9 minuti Sì, metti Metti un paio di Claymore Che È un paio Ne ho giusto due Perché di più Non ce ne danno Infatti un paio È formato da due No? Eh, ho capito Ahia Io tra virgolette Ho le munizioni infinite Perché il Galil Di per sé ne ha tante Oh merda Oh merda Oh merda Merda Sascha Arrivo Preparati Attacca Attaccati, prego No Dov'è? No, si sta ricaricando Merda Oh cazzo Simo, ho le scimmie C'è, va No, no, no Non usarne Non usarne Provo a uscire Riesco a uscire Tranquillo Sono riuscito a uscire Ok, sono fuori io Attento adesso Attento adesso Perché arriva il mondo Ok Me ne vado 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 Arrivo Arrivo Vengo ad aiutarti Arrivo io Arrivo io Arrivo io No, bisogna rifarmi un'altra cassa Almeno una veloce Subito Dai 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 Perché non mi ha dato le scimmie? Perché non abbiamo trovato le munizioni Ma scusami le claymore me le dai 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 sono due cose differenti oh comunque noi dovremmo stoppare il video a fine round siamo 11 minuti porco giuda porco giuda quanti me ne sono arrivati tutti insieme in una volta sola mazza corri non mi ricordavo di aver messo una claymore in quel punto porca miseria mi stavano facendo l'imboscata ma davvero? ah qua c'è un'altra aspetta finalmente che riusciamo a fare un luogo decisivo porca miseria porca miseria Sasha non sai cosa ho fatto senza volerlo sono passato in mezzo a 10 zombie quella madonna sto arrivando Sasha sto scappando tantissimo mi hai tanti? si corri corri cattivo la trappola no tranquillo per adesso li tengo li ho decimati li ho decimati sono riuscito a decimarli no non è vero c'ho pure uno zoppo che mi sta inseguendo minchia quante ne stanno arrivando qua eh lo so Sasha scappa provo a portarteli via sono proprio qua fuori Simo sono troppi Simo aiuto tira una scimmia tira una scimmia piuttosto non ne ho merda aspetta un attimo no ci sono ci sono ci sono ok stanno inseguendo me stanno inseguendo me stanno inseguendo me oh mamma quanti zoppi ho creato una barriera di zoppi non ho più munizioni di che roba aia non ammazzare gli zoppi ti prego ok tienili devo stoppare il video stop adesso